A San Rocco Appigli Il nuovo igienizzante per tessuti e superfici Cosa aspettate? Finalmente a San Rocco Appigli Alla fonte del pulito, nuovo igienizzante tessuti e superfici Con un'alta concentrazione di alcol Formulazione liquida con oltre l'80% di alcol escluso propellente Igenizza senza alterare tutti i tipi di tessuti e tutte le superfici Doppio principio attivo per un'igiene profonda e duratura Pulizia e igiene in un unico prodotto Non necessita di risciacquo e inoltre fragranza intensa e di lunga durata Adatto per le attività di abbigliamento, di merceria e per tutti coloro che vogliono una sicurezza a 360 gradi Basta agitare bene prima dell'uso e spruzzare uniformemente da una distanza di 20-25 cm Vi invitiamo a contattare la fonte del pulito via del Poggio 4 a San Rocco Appigli Al numero 334 30 25 450 Oltre ai servizi di lavanderia e asciugatura self-service Tanti prodotti detergenti, ammorbidenti, mangiaudori, antitarme e deodoranti salvatessuti E inoltre i sacchetti sottovuoto La fonte del pulito a San Rocco Appigli Igiene in tutta sicurezza Aperta dalle 8 alle 22